Cosmic Ring Per collegare diversi componenti di un vostro bracciale, di una vostra collana Oppure per collegare diversi componenti di un orecchino Possono essere anche utilizzati come parte terminale di una collana Magari in un'unità di catene o di qualche altro crisallo svaroschi Opie Perline vi propone i Cosmic Ring in due diverse dimensioni Da 20 mm e da 14 mm E io ho scelto alcuni colori da mostrarvi in modo che possiate osservarli meglio E in qualche modo anche rendervi conto della loro reale dimensione Questo Cosmic Ring è da 20 mm come dimensione E il colore è Crystal, semplicissimo Quest'altro Cosmic Ring misura sempre 20 mm di diametro E il colore è Volcano Ci sono tantissimi riflessi, è un colore meraviglioso Un altro Cosmic Ring da 20 mm di diametro In questo caso il colore è Comet Argent Light Quest'altro Cosmic Ring invece misura 14 mm di diametro E vi volevo anche far vedere la differenza di dimensione tra i due In questo caso il colore è Vitra Light Quest'altro Cosmic Ring che ha questi toni sul verde misura sempre 14 mm di diametro E il suo colore si chiama Sahara Il colore invece di quest'altro Cosmic Ring sempre da 14 mm si chiama Vermuta Blue Questo invece è un altro Cosmic Ring da 14 mm In questo caso il colore si chiama Red Magma Come al solito spero che il video sia stato chiaro, utile E ci sentiamo al prossimo Ciao!